Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul nostro secondo canale io sono Nataletta Dolce della mia sorellina siamo qua nel nostro secondo canale mi raccomando iscrivetevi se ancora non siete iscritti vi vogliamo far vedere tutti gli acquisti che abbiamo fatto al Lidl ah è vero Lidl che siamo andati noi personalmente al Lidl come facciamo sempre missione per voi a comprare tante cose buoni con ingredienti buoni per stare in forma anche qualcosa di cosmex qualcosa per la casa qualcosa di sportivo avete già visto il blog da Lidl? sì infatti la settimana scorsa abbiamo caricato il blog andatelo a vedere se non l'avete visto abbiamo trovato tante cose carine quindi non vediamo l'ora di farvi vedere iniziamo facciamo vedere prima queste cose sportive che abbiamo trovato troppo troppo carine e allora abbiamo preso questo io ho preso questo top top carino fucsia che ho preso una quarta B e mi va benissimo ragazze praticamente l'ho preso senza provarlo ovviamente là poi sotto la casa mi andava proprio bene porta sotto le coppe e sopra praticamente cos'è una retina qua una cosa con la cerniera è molto carino e mi piace tantissimo il colore bellissimo poi casomai se volete vederlo indossato fra qualche giorno vi registreremo un video con tutti i vestiti indossati per lo sport sui nostri canali quindi sul mio canale sul canale di Nancy iscrivetevi così li vedrete indossati comunque è il mio più bello del tuo il mio azzurro turchese bellissimo e dietro è verde la cosa bella è che c'hanno la coppa e poi questa con la cerniera c'è un top e sotto c'è la coppa pagate pochissimo quanto abbiamo da buonissimo proprio veramente poco poi abbiamo preso io ho preso questo qua che è un tipo leggings ma questo è tuo è mio scusate già ce l'era preso lei ah il mio leggings corto nero aderente no corto è tipo pinocchietto sì è pinocchietto a me è grigio è praticamente fatto così vedete e poi tiene tutta però sai che tiene tutta la forma non lo so se ho vergogna mettermelo così andare in palestra così perché si vede proprio tutto il culo non riesco ad aprire vabbè rispetto proprio a pelle è come se sei nuda non è nulla a donno mi piace come non ti piace è detto sta nuda aspetta si apre non ce la faccio non ce la faccio di andare in muto in palestra ma no ha detto nel senso che fanno effetto pelle capito quindi alla fine ammetto è pure scuro secondo me non lo senti però si vede proprio tutta la forma quindi non lo so comunque te lo devi provare a me o sono migliore se lo provare si ma più una casa maglia si infatti puoi utilizzarlo sto dicendo se è veramente di scoccia anche come sotto vestitini come leggings invernale e poi infine ho preso anche questo qua con un altro top sportivo questo è molto carino c'ha proprio le full la rosa antica e questo forse si può mettere senza nulla sotto magari l'estate che dici molto coperto anche molto accollato ma molto accollato vabbè dobbiamo vedere dai sembrava delle puritane cavolo mo fa prezzo ma non lo so ne sa allora abbiamo comprato questi sono la cosa più bella sono questi questi sono a parmigiano reggiano e la cosa più bella dell'idolo sono questi sono praticamente degli snack al grana pagano ma sono troppo buoni le mangiamo a staggiano non aspetta c'è una puzza di formaggio di formaggio che poi ci sono di due tipi non sempre ci sono ma quando ci sono noi ricompriamo siamo perché sono un altro oga tipo e sono degli snack a parmigiano leggiano che stanno proprio di formaggio veramente super più solenzuosi eccetera oh come zucca ci sono anche al rosmarino però questi qua classici sono più pure a parer mio profumo sono un po' secchi no se sono la parola mi sto muocando non vuol dire ma non altro ma a me aspetta comunque poi prosciutto biologico di alta qualità senza glutine senza nulla di agricoltura biologica prosciutto cotto yeee buonissimo poi questi questi le presi tu ah questi le presi io sono dei ravioli bio integrali con ricotta e spinaci ma buonissimi ragazzi sono un ingrediente proprio buono si c'è proprio la farina integrale di grano uova latte buoni buoni io invece ho preso il bioparmigiano tutto bio c'è questa sezione bio è tutto bio e quindi l'abbiamo preso ah e poi ragazze la chicca ah buono questo yogurt ragazze è troppo buono praticamente è una novità assoluta subito l'ho comprato di Milbona come si chiama sky 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 yogurt magro 0,2% c'è la vente senza grassi però rispetto a yogurt greco normale questo ha più proteine quindi è super proteico ed è molto buono è tipo molto cremoso già l'ho assaggiato io ancora no è buonissimo vi consiglio di provarlo soprattutto se siete sportivi perché è ricco ricco di proteine quindi ottimo questo è tutto ragazze quindi questo è tutto ragazze speriamo che questo video vi sia lasciato lasciateci tanti like se vi piacciono i video dei nostri prodotti dal supermercato spesa e vlog e fateci sapere quali altri supermercati non so Ronald Carrefour Tuodì noi andiamo un po' da tutti fateci sapere fateci sapere quali supermercati vorreste che noi andassimo brava grande ciao ciao